Sette pediatri in sei mesi, l'ultimo a dimettersi il primario Marco Filippone. Si sta spopolando di medici il reparto di pediatrie e patologia neonatale dell'ospedale di Campo San Piero, un fiore all'occhiello della sanità dell'intera area specializzato tra l'altro nell'assistenza a bambini prematuri di qualsiasi età gestazionale e di qualsiasi peso, oltre che supporto a un punto nascite da quasi 1500 parti all'anno. Sono preoccupati i sindaci che hanno deciso di scrivere alla Regione e alla Direzione Generale dell'Ulse 6. La preoccupazione è molto forte, è forte nei sindaci, negli amministratori e negli utenti, in tutte le persone che hanno sempre trovato nel reparto di pediatria e neonatologia di Campo San Piero e in tutta l'area materno-infantile un punto di riferimento. Oggi vediamo che la situazione è particolarmente critica. Io, insieme ai colleghi, tutti gli 11 sindaci del Campo San Piero, ci siamo subito attivati, scrivendo sia alla politica sia ai tecnici. La lettera è indirizzata al Presidente Zaia, che due anni fa inaugurò il reparto ristrutturato e dotato di apparecchiature di eccellenza con dieci posti di terapia intensiva per il neonato critico. Ai consiglieri e assessori regionali, molti del territorio, è indirizzata anche ai vertici dell'Ulse 6. Io ho chiesto al Direttore Generale che mi garantisca l'immediata, la rapidissima sostituzione dei medici che mancano, la copertura dei posti e che anche, eventualmente, il posto di primario venga subito ricoperto. Una risorsa, la pediatria ribadiscono i sindaci del Campo San Pierese, preoccupati, come i cittadini, per il futuro non solo di questo reparto, ma dell'intero Pietro Cosma. Chiediamo certezza e chiarezza nella programmazione in merito all'intero ospedale. Noi sappiamo che qui deve sorgere un centro traumatologico ortopedico, che è ancora in fase di implementazione, però il nostro ospedale è tanto altro e noi vogliamo che rimanga tale.